Il covid non è ancora del tutto sconfitto. Nel biellese un altro decesso di persona positiva nelle ultime 24 ore ed arriviamo così a quota 500. È un numero elevatissimo di decessi nel nostro territorio che ha registrato negli ultimi due anni un incremento del 40%. I numeri dell'unità di crisi della regione Piemonte che ha comunicato ieri. 1.899 nuovi casi di persone risultate positive al covid-19. Pari al 7,1% di 26.924 tamponi eseguiti. Il totale di casi positivi diventa quindi di quasi un milione in Piemonte. 38.609 a Biella. I ricoverati in terapia intensiva sono 31 con meno 6 degenti rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 654 con un meno 36 nelle ultime 24 ore. Sono 9 i decessi di persone con diagnosi di covid-19 comunicati dall'unità di crisi nell'arco di 24 ore e il totale diventa quindi di 13.109 deceduti in Piemonte. Nell'ospedale biellese la pressione è scesa. Siamo a una trentina di ricoveri ma ripetiamo ancora una volta che è opportuno non abbassare completamente la guardia.